Progressi in terra amara. Durante la tranquilla serata, Ali Ramet e Zulia si trovarono a conversare insieme. Zulia chiese ad Ali Ramet se fosse a conoscenza di quanto accaduto. Lui confermò di sì, che ovviamente lo avrebbe saputo. Ilmaz era una persona molto buona, ma portava molte ferite. Fu confortante sapere che tutto il denaro che Ilmaz possedeva sarebbe stato di grande aiuto per l'agenzia e i bambini orfani in generale. Espresse il desiderio di farle una domanda a Zulia. Sapeva lei che il denaro di Ilmaz era sepolto in quel terreno quando aveva donato la proprietà all'agenzia? Zulia le assicurò di non esserne a conoscenza, che lo promise. Se ne fosse stata informata, sarebbe corsa da lui per chiedergli cosa fare, poiché non le aspettava decidere su una questione del genere. Tuttavia, era felice, come lo era anche lui, che l'eredità di Ilmaz potesse aiutare così tanti bambini bisognosi. Capiva Mugeigan, che pensava al futuro del suo figlio come madre, e comprendeva la sua angoscia. Ali Ramet le disse di non sentirsi in colpa, Ilmaz amava i suoi figli allo stesso modo. Per questo motivo, lui e Ilmaz avevano creato un fondo per Care e Mali con 30 milioni di lire. Care e Mali riceverà il conto quando compirà 21 anni e potrà usarlo come meglio crede. Inoltre, finché fosse in vita, si sarebbe assicurato che non le mancasse nulla. Zulia sospirò ed esprimeva il suo sollievo per la notizia. Si sentiva triste e oppressa, ma non lo prendeva male. Anche la presenza della zia di Mugeigan la metteva in cattiva luce. Mugeigan aveva tutto il diritto di pensare al bene del suo figlio, ma sua zia no. Ali Ramet le disse che non tutte le persone hanno buone intenzioni, ci sono anche persone cattive che mettono alla prova gli altri. Sono come ostacoli nella vita e è necessario trattarli con gentilezza, senza seguire la loro stessa strada. Questo è ciò che stavano cercando di fare. Oltre a pensare a suo figlio, Ilmaz si è trasformato in un aiuto per tutti i bambini orfani, grazie alle azioni gentili di Zulia. In una serena notte, Fikret si reca a casa di Umit. Arrivato lì, commenta il ritardo nell'apertura della porta, scherzando sul fatto che pensava che Demir fosse presente. Umit chiarisce che non è a casa, ma potrebbe esserlo in qualsiasi momento, quindi devono essere prudenti e discreti in sua presenza. Non sanno quando potrebbe apparire, Fikret sorride e la incita a continuare, chiedendole cosa sta succedendo. Umit gli confessa che non c'è nulla che non possa ottenere. Soddisfatto, Fikret elogia la sua abilità nel raggiungere ciò che si propone e le chiede di raccontare in cosa è riuscita ultimamente. Umit, orgogliosa e soddisfatta, racconta come ha organizzato tutto affinché Demir andasse a casa sua. Le racconta come ha rotto una tubatura e ha chiamato Demir per chiedere aiuto. Demir è accorso immediatamente, impressionato dall'urgenza. Fikret consente, riconoscendo la sua astuzia, e commenta la sua pericolosità. Umit continua a narrare che, in segno di gratitudine, gli ha preparato un caffè e ha avuto un momento intenso guardando Demir negli occhi prima di andarsene. Crede che sia stato un passo importante. Fikret approva la sua strategia e suggerisce di continuare a esercitare pressione su Demir, poiché Zulia è ancora in lutto per la perdita di Ilmaz e non gli permette di avvicinarsi. Umit consente e Fikret prosegue con il suo piano machiavellico. Le dice che tutta la città vedrà la vera natura di Demir, un uomo che inganna sua moglie, simile a suo padre, Adnan. Sono certi che Demir subirà le conseguenze delle sue azioni. Fikret assicura che lei prenderà possesso dei beni di Demir e distruggerà la sua famiglia, dopodiché saranno liberi di andare dove desiderano. Umit, preoccupata per la gravità del piano, chiede come intendono mettere in atto l'esecuzione e se hanno intenzione di fare del male fisico a Demir o addirittura a ucciderlo. Fikret, con determinazione, rivela che hanno in mente qualcosa di ancora peggiore, qualcosa che farà desiderare a Demir di essere morto piuttosto che affrontare ciò che hanno preparato per lui. Le assicura che lei è un pilastro cruciale nel loro piano e le ricorda che faranno tutto insieme. In un momento di intimità, Fikret cerca di avvicinarsi a Umit per accarezzarle il viso, ma lei si allontana, suscitando la domanda sul perché sia così distante. Umit, cercando di nascondere i suoi sentimenti, le dice che è semplicemente stanca e ha bisogno di riposare. Fikret, insoddisfatta della risposta, le tiene forte il viso e le avverte che non può permettersi di innamorarsi di Demir, poiché ciò rovinerebbe i loro piani. Anche se Umit nega la possibilità di innamorarsi di qualcuno come Demir, rimane in uno stato di riflessione, piantando un seme di dubbio nella sua mente. Dopo una discussione tesa con Demir, Beakhaiz e Mujeygan si trovano dentro casa, discutendo intensamente sull'argomento. In quel momento, Mujeygan racconta a sua zia Beakhaiz sull'eredità che Ilmaz ha lasciato a suo figlio e le spiega le condizioni poste affinché Kere Mali possa utilizzare i soldi. Questo infastidisce Beakhaiz, che non capisce perché siano state poste quelle restrizioni. Mujeygan le risponde che comprende sì e che è felice che le condizioni siano quelle. Beakhaiz le rimprovera di star diventando pazza, a cui Mujeygan risponde che no, sarebbe arrabbiata se il denaro non fosse per suo figlio e se non potesse usarlo per costruirsi una vita. Beakhaiz le dice che si riferisce a un conto che lei non toccherà fino a quando Kere Mali non avrà 21 anni. Mujeygan replica che non ha bisogno di toccare i suoi soldi allora. Beakhaiz insiste chiedendo del futuro di Mujeygan. Mujeygan le dice che pensava che entrambe volessero la stessa cosa. Beakhaiz, alterata, le dice che sa che suo figlio è assicurato e che è una buona cosa, ma insiste nel sapere del futuro di loro. Mujeygan le risponde che ha tutto ciò che desidera, vive in una casa bellissima e se voleva un altro posto, ora ce l'ha. Beakhaiz continua a rimproverarle la sua situazione e le dice che sta vivendo in un posto orribile, circondata da servitori, in una casa che odora peggio di un drenaggio. Le chiede se vuole passare il resto della sua vita lì, sopravvivendo con il suo misero stipendio. Questo infastidisce profondamente Mujeygan, che le dice che sta agendo ingiustamente. Beakhaiz le assicura che non vuole più dipendere da Ali Rameth né vivere dei suoi soldi. Mujeygan le avvisa che non dimentichi che lei non ha bisogno di prendersi cura di lei. Le dice che non si è mai davvero preoccupata per Keremali, che non le importava se il suo matrimonio si rompeva o se lei piangeva, che pensava solo a se stessa. Beakhaiz le assicura di non fraintenderla, sa che a volte non riesce a controllarsi a causa del suo temperamento, ma pensa anche a Keremali e a se stessa. Le dice a Mujeygan di non arrabbiarsi, ma questa le risponde che è la prima volta che vede tutto così chiaramente e capisce tutto ciò che le sta dicendo. Pensava che Beakhaiz la volesse per tutto questo tempo, che tutto ciò che faceva fosse per proteggerla lei e suo figlio. Pensava che a Beakhaiz interessasse il futuro di Keremali perché è sua zia e l'ha sempre apprezzata. Non ha mai creduto a ciò che gli altri le dicevano su di lei e l'ha sempre difesa, pensava che non avesse nessun altro al mondo oltre a sua zia, aveva fiducia in lei completamente e avrebbe fatto qualsiasi cosa per il suo bene. Quando Mujeygan si prepara a andarsene, Beakhaiz la afferra per il braccio e le chiede di non andarsene arrabbiata. Mujeygan le dice che è abbastanza, che la sua famiglia è finita da oggi e vuole stare lontana, perché da questo momento in poi non esiste più per lei. Poi se ne va. Questa è l'anteprima di oggi, grazie mille.